salve a tutti qua da fabio oggi c'è un nuovo video unboxing prima di incominciare il video lo sponso da un canale di youtube che si chiama eros rasato tradizionale lascerò il link in descrizione prima di e lascio il link in descrizione anche da parte da facebook neofiti passione e lascio il link del sito affiliato di rasoico di eliaf e questo è un supporto per il telefono che praticamente è un supporto per il telefono che l'altro che avevo non andava bene quindi ho optato grazie a eros ho optato che mi ha aiutato a scegliere un supporto in questione questo è solo tanto lo apriamo e secondo me è molto meglio questo aspetta che c'è un esatto pezzo e dovrebbe essere così devo capire un attimo come funziona ok questo è così diciamo che è regolabile perché vedi è regolabile adesso vediamo che questo in teoria scusate un attimo io mi ho fatto da capito come si come si fa quindi devi togliere il bulloncino però è serio questa cosa qua è seria senza la vite uno lo gira e fa così invece e invece se uno mette la vite nel senso giusto metti incastri questo poi con un po' di manualità che non ho si avvita e praticamente così facendo giri che ti gira non si toglie e praticamente io lo metto per così così vedi tac il telefono va per così e questo dovrebbe essere molto meglio perché c'ho la regolazione anche qua vedi vedi com'è cioè è molto regolabile l'altro lì è una merda praticamente è un po' più serio questo perché si allunga anche anche 324 si allunga e si accorcia quindi così non si allunga però ah no così al massimo c'è un minimo di regolazione adesso pubblicherò questo e stasera farò il video sbarbata e farò la prova no sponsor da qua tutto ricorda lasciate iscrivete al canale attivate la fabbrica e commentate lasciate like lascio il link in descrizione del canale di youtube di eros lascio il link della patria facebook e offizio per azione lascio il link anche del sito rasoio di ero che sono affiliato da qua tutto al prossimo video da fabio